Sono Vanni Chiesa, da qualche mese mi occupo di tesoreria in una società che si chiama Comser SPA, che è una società di credito al consumo. Questo corso generale sulla tesoreria mi è stato utile per imparare le basi, le funzioni della tesoreria ed è utile per partire da un percorso formativo di ampio spettro.